Questa non è stata una campagna elettorale, questa è stata una campagna di linciaggio dalla mia persona che ha fatto vergognare secondo me i nove candidati a sindaco che non hanno avuto il coraggio di presentare una proposta, di confrontarsi nel merito ma solo su attacchi personali che come in altri tempi persone che non avevano orgoglio, dignità e capacità facevano. Ma questo me lo tengo nel mio profondo del cuore, la mia amarezza, spero solo che questa lezione serva a chi voglia fare politica, che non si fa la politica contro le persone ma si fa la politica per un progetto, per un'idea, per dei valori cercando di dare un esempio alle generazioni che stanno crescendo, che la politica si può fare anche rispettando gli avversari. Un sindaco che ha cambiato faccia della città di Spezia, ha saputo impostare politiche nuove e coraggiose di cambiamento sia economico che sociale, oltre a tutte quelle cose di amministrazione che riguardano i sindaci, penso ai rifiuti, penso a un rapporto nuovo con il porto su cui ha saputo lavorare davvero bene. Una squadra di giovani entusiasti che lo ha affiancato, dei partiti politici che lo hanno appoggiato generosamente hanno saputo tenere porte aperte a esperienze civiche, a tanti mondi e poi ovviamente ritrovarsi insieme anche con una famiglia più allargata, perché a questo giro le liste che appoggiavano Peracchini erano più di quelle dell'origine e hanno saputo raccogliere un consenso, ripeto, fatto da molti fattori ma che era nell'aria. Una sconfitta netta, pesante, che porta con sé però anche alcuni aspetti su cui poi nei prossimi giorni dovremo assolutamente confrontarci, ragionarci, in particolare dobbiamo prendere le cose positive, che è quello di aver provato a fare un progetto unitario che raggruppasse le forze del campo largo del centro-sinistra, una buona campagna elettorale, una candidatura molto preparata, Pier Assumo Vigo è una figura molto utile per questa nostra comunità, Pier Assumo Vigo che darà il proprio contributo nei prossimi mesi, nei prossimi anni alla città per crescere e credo che questo sia l'aspetto più importante. Non soddisfatti per l'esito della coalizione, alla quale noi avevamo partecipato con entusiasmo, la lista dei 32 guerrieri della pace e dei diritti l'ha combattuta questa battaglia a fin in fondo, avevamo combattuto i cinque anni di opposizione in maniera seria, puntuale, fatta di argomenti, fatta anche di sobrietà ma di nettezza politica, noi siamo una lista invece non civica ma una lista politica, vogliamo ricostruire una sinistra in città, penso che sia mancato questo nella nostra analisi politica, una sinistra politica che deve ritornare a essere presente nelle piazze, nei luoghi di lavoro, nei quartieri.